Sì, mi sa che Napoleone prima si vestiva proprio così, lui quando faceva colazione aveva la tonaca romana Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Sì, è vero Vediamo qua, questo è il giardino della Villa Reale Sì 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 Siamo giardini di Villa Reale a Milano, da non confondersi con la Villa Reale di Morse Sì, questa è la Villa Reale dove c'è il patto, questo è il tempietto, con statua mancante, diciamo statua invisibile Sì Sì E poi andando, girando ancora Allora c'è una torretta Sì 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 Sì